ecco qua lo chef resident di bianco ciao come stai bene tutto bene a te come stai bene grazie prima adesso un bello piatto che adesso spiegherai alla signora giovanna di piase la rotonda e la rotonda e praticamente la cucina glielo presenti glielo racconti un po con la storia di questo piatto e che cos'è noi abbiamo un antipasto freddo e un antipasto di baccalà partiamo da quattro portate di baccalà abbiamo un baccalà mantecato con un pomodorino confit e un crembol di pane croccante un raffaello di baccalà con un culi di carote un baccalà marinato con cassetti di peperoni qui invece abbiamo un pezzo di basilico fatto da noi con un voltino di melanzane pomodorino baccalà e basilico e a fine abbiamo la nostra pitturina di baccalà il tipico pezzettino di baccalà fritto croquet e polpettine di baccalà bravo ma dopo c'è la sorpresa vedremo dopo me lo dici dopo vabbè ti ringrazio